Dire la verità sul mercatino etnico, è questo l'obiettivo del gruppo consigliare di SEL al comune di Pescara che si era schierato contro la decisione dell'amministrazione di sgomberare l'aria occupata dagli ambulanti senegalesi. Non sono irregolari, nella stragrande maggioranza dicono i consiglieri di SEL, che sostengono anche che le maggiori inadempienze nella vicenda mercatino etnico sono proprio da imputare al comune. L'aria nella quale insistevano infatti non era di proprietà comunale ma di RFI ed adibita a viabilità e non a mercato, pertanto anche se muniti di licenze e di iscrizione alla Camera di Commercio, il comune adriatico non poteva esigere tributi né autorizzare quel mercatino. L'unica irregolarità da imputare ai senegalesi, continuano da SEL, era dovuta al fatto che la licenza di ambulante non consente di sostare sempre nello stesso posto. Intanto, proseguono i consiglieri di Sinistra Ecologia e Libertà, sta arrivando a conclusione l'iter per l'apertura del terzo tunnel della stazione centrale che accoglierà il nuovo mercatino etnico. Domani ci sarà l'incontro con il prefetto e con Ferrovia dello Stato per gli ultimi pareri. Però noi oggi abbiamo pensato di fare questa iniziativa e questa conferenza stampa perché dal giorno dello sgombro oggi abbiamo percepito, non solo in città, ma sulla stampa o altro, dei segnali non proprio buoni rispetto a quanto accaduto. Abbiamo immaginato che fosse importante come atto di solidarietà nei confronti della comunità senegalese fare una sorta di racconto di davvero quello che c'è. Quindi una sorta di la verità vi prego sui senegalesi. Perché si è detto che sono abusivi, che non hanno il permesso di soggiorno, che sono irregolari, tante cose che forse in maniera confusionaria la gente recepisce in un certo modo, i cittadini recepiscono in un certo modo. Noi vogliamo provare con poche slide precise e chiare a spiegare la loro posizione, cosa è successo e cosa sta facendo l'amministrazione. Però era stato proprio il sindaco a parlare di illegalità in quel posto. In realtà il sindaco ha ripetuto, se leggete l'ordinanza, noi la citiamo appunto nelle infografiche, quanto detto nella Commissione della Pubblica Sicurezza dal prefetto.